3, 2, 1, go! Buongiorno ragazze e ragazzi! Oggi siamo ritornati qui con un nuovissimo video! Questo video si tratta di un video molto 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 bello! Prova a non cantare challenge! Ebbene sì, la prova a non cantare challenge! Noi abbiamo scelto un po' di canzoni! Cioè, abbiamo le canzoni... Non metteremo il video con... Allora ragazzi, non sentirete l'audio corretto perché altrimenti YouTube ci dà... Cioè, fa copyright... No, fa copyright, quindi non ci fa più vedere il video, diventa nero! Lo schermo e non potete più vedere questo video! E quindi mettiamo un audio diverso! Però alla fine quella è la canzone e credo che sia uguale! Allora, prima canzone! Vai, scegli tu! Allora... Oh, dai! Di nuovo, penso in poi! E penso ci entri a respirare, sai! E allora resta! Andrò c'è un po' di... Tanto lo sai! Che poi torranno o... Che adesso questo anno abbracciamo un po' E passerò la notte... E' andata a lavorare! Vabbè, allora questa è la canzone che è molto molto carina E abbiamo perso Giulia, sei contenta? Io no, per niente Neanche io Però è bellissima questa canzone, è di Roma! Cioè... Allora, andiamo avanti... Sto premendo qualcosa magari? No, no! Sì, ho premuto! Eh no, non prenderla! Sì, ho premuto! E vabbè, ti rimi... Ti rimi... Ti rimi, sbagli? No, no, no! E' tornato a prendere che ci posso cavare... ... e' in meia il peggione a me e' santo... ... e' abitato lontano avuto di due le porte... ... e' sfortuna la sua mano e le sue manche i rosso... ... e' una cotta, a perare! In terra cobre il tuo spino e colmasso di... di mille serpenti che un po' per le scritte non ha sputtato il vestito Ma attento, la farà è giocato, c'è, mi vedete già, mi ha detto questo viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è la sua meraviglia, il cappellaio matta, che mi ha detto, sono un stanco, e mi ha rimosso un foglio in mano, in mezzo a sigaretta, prestiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta, che c'è una frase scritta in testa, ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te può essere perfetta Quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire, quindi Marlena torna a casa, che non voglio più aspettare, Quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire, quindi Marlena torna a casa, che ho paura di sparire, è bellissima sta canzone, è bellissima raga, però ci sono, cioè grazie del mio cuscino magico, oh, sto perdendo bene, sto perdendo, ma sono cazzoni che non mi posso perdere di cantare, perché la vita è bella, ok, primo, due, no, 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 c'è una fortuna, non puoi ballare? No, non chiede ballare No, non chiede ballare No, abbiamo detto che la cazzo No, 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 no E però io sto prendendo però non c'è più un sole E non è un po' 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 No, come no, come no Perché è un po' Rai solito Come no, come no, come no Va bene raga, comunque non me la ricordo bene Comunque questa l'ho persa Però stai... Come no, come no, come no L'ho superata Dalle dove stavi? Scusami Vai, questa Qual è? Raga, stiamo vedendo Perché noi siamo più forse di noi Quindi vediamo Come facciamo altre? Prima ho sempre la stessa canzone No, non è un po' No, non è un po' E' 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 un po' non mollo mai nooo non mollo mai nooo non mollo mai nooo non mollo mai andiamo avanti la scelgo aspetta vai andami la voglio scegliere queste ce le abbiamo fatte tutte quale? tutte queste voglio farle e la vedai basta e no però ma è mica incredibile che era questa nooo non è vero non è vero non è vero non è vero guarda c'è una verità o c'è una verità c'è una verità bravo esatto e quando il mondo ti schiaccia provaci anche tu tira fuori il bimbo che hai dentro non nascondelo più e ti ha portato qui più io non sono io ma tu sei tu e vorrei essere anch'io bello come sei bella tu ehi sei è difficile restare calmi sei la certezza in cui riparare la luce filtra tra gli alberi sfogli il sole nulla in confronto i tuoi occhi tu sei la prima missione compiuta sei il desiderio che muta l'uscita è una poesia senza veri io vivo con i tuoi piedi io vivo e grazie a te sui tuoi piedi qual'è Marky? trova da specchiare un mio più nascosto del mondo e quando il mondo ti schiaccia provaci anche tu tira fuori il bimbo che hai dentro non nascondelo più e ti ho portato dei fiori non sono io ma tu sei tu e vorrei essere anch'io bella come sei bella tu bella tu e ti ho portato dei fiori ok raga allora abbiamo fatto anche questa e siamo in parità perchè il primo abbiamo fatto uguale poi io ne ho cantate due due ho cantato come no e questa quindi si siamo pari allora allora ragazzuoli vieni qua vai vai abbiamo fatto una bella cosa allora quindi questa era la challenge challenge ho vinto io ho vinto io ho vinto io ho vinto io ho vinto quindi Marlena torna a casa che il cielo qua si fa sentire quindi Marlena torna a casa che paura che non voglio più aspettare quindi Marlena torna a casa che il freddo qua si fa sentire quindi Marlena torna a casa che non voglio più aspettare che non voglio più aspettare che non voglio più sparire vabbè dai allora ragazzi quindi 3 2 1 go quindi ragazzi questo era il video spero che vi è venuto e mi è piaciuto tantissimo iscrivetevi a instagram marghejulia kawai su facebook marghejulia kawai se volete le maglie del cover le tazze andate su www.marghejuliakawai.it vi ricordo che Marlena e Giulia assieme a voi formiamo la magic family vi ricordo di seguirci anche su firework la siamo ambasciatrici e ci chiamiamo marghejulia kawai e vi ricordo che Marlena e Giulia assieme a voi formiamo la magic family cioè amore puro però se vi è piaciuto lasciate like, commentate e scrivete guarda come sei l'occhio guarda come sei l'occhio potente ma sei l'occhio un po' Grazie a tutti